Alla questione di Massimo e Sera, io ho vissuto l'esperienza di spuntarmi a Massimo e poi vorrei averlo sentito un po' un vento, diciamo, in quali sono i nomi e credo che mancherà la sua voglia di essere questo un signor male perché sia contro lui o contro lui, io vedo che i consiglieri di malgranza, come dire, si sono spuntati a ridurre che in questo periodo con lui, che l'ho fatto io nella passata, la giustatura sia stata appunto un confronto che non è in modo formale, cioè mi ha formato, perché credo che abbia contribuito a, come dire, innalzare il livello della rialetta del consigliumale e quindi sicuramente a qualificare anche la mia capacità di consigliere, cioè come sono, probabilmente, sono anche grazie al confronto con Massimo e Marconcini e credo che sarà una perdita di questo consiglio che è la sua capacità, che ci vogliono meglio, e perché appunto non solo è competente, ma anche appunto la capacità di ricordare chi è con lui, anche chi è contro lui, perché non ha questa capacità tutta sua peoriare, quindi possiamo portare altri pensieri. Grazie a tutti.